Spunti di vista, ospite di questo spazio, è l'Associazione Garibaldini, in particolare la sezione di Arezzo, rappresentata dal suo presidente Ernesto Ferrini, che ringraziamo per essere qui con noi a Spunti di vista. Presidente, quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario della liberazione di Arezzo e dobbiamo dire che a suo tempo anche gli stessi Garibaldini debbiterò un contributo significativo. Sì, la liberazione di Arezzo e la resistenza retina è dovuta soprattutto alla 23esima brigata Garibaldi, che portava questo nome, intitolata Apio Borri, che è stato il primo ucciso dalla violenza nazifascista nel 1943. Quindi ecco, le brigate Garibaldi, che hanno costituito l'ossatura della resistenza, era presente anche ad Arezzo e Arezzo è stata una delle prime città a organizzarsi nella resistenza, grazie a Santetani, che tra l'altro debbo dire che quando nel 1970, io allora giovanissimo, ho conosciuto a Firenze Ugo Lamalfa, allora segretario del Partito Repubblicano, e lui mi disse, lo sai che io ho conosciuto un grande aretino, tanti anni fa, che si chiamava Santetani, un eroe della resistenza. Ed infatti lui, proprio su incarico di Ivanoi Bonomi e di De Gasperi, Santetani, è stato quello che ha costituito ad Arezzo, ebbe l'incarico di costituire ad Arezzo, il CP, cioè il Comitato Provinciale Antifascista Aretino, che poi diventerà CLN. Lamalfa e Santetani erano supposizioni leggermente diverse. Ecco, questo è il grande spirito della resistenza, perché era trasversale, non c'erano differenze, chi pensa erroneamente che la resistenza sia stata un fatto di comunisti, tanto per essere chiari, non è così, assolutamente non è così, era trasversale. Il partito d'azione, per esempio, il partito liberale, liberaldemocratici, ma addirittura anche monarchici, sono stati quelli che hanno fatto, insieme a socialisti e comunisti, la resistenza. E questo è stato un grande avvenimento, veramente una cosa molto importante. Presidente, l'attività della sezione Garibaldini di Arezzo è molto notevole, dobbiamo dire, no? Ricordiamo anche le iniziative, le celebrazioni che ci sono state l'anno scorso. Sì, quest'anno partiremo ora con il 2 giugno, il 2 giugno è la proclamazione della Repubblica, la festa della Repubblica e dell'acquisizione dei diritti, la sovranità ritorna finalmente al popolo con il referendum del 2 giugno e quindi una cosa cara a Garibaldi. E noi festeggeremo a Montevarchi i 140 anni della costruzione di un obelisco dedicato proprio a Garibaldi e a Nita. E siccome il 2 giugno è la data di morte di Garibaldi, noi commemoreremo questo avvenimento, proprio il 2 giugno, a Montevarchi, con la partecipazione dei nostri soci che io ringrazio perché veramente collaborano sempre e mi supportano. Tra l'altro stiamo vedendo queste immagini storiche che documentano proprio il passaggio degli inglesi ad Arezzo nel 1944, mese di luglio, città praticamente deserta, Arezzo di fatto ritrovava la sua libertà dopo gli orrori legati alla seconda guerra mondiale. Era il 16 luglio. Il 16 luglio, sì. Noi dobbiamo anche rammentare che il primo sindaco di Arezzo è stato Antonio Curina e è stato il primo esempio in Italia ad essere stato eletto autonomamente dal Comitato di Liberazione Nazionale perché di solito erano gli alleati che sceglievano chi doveva fare del sindaco o il prefetto. Invece ad Arezzo il 14 luglio, proprio due giorni prima, lui diventa sindaco proprio eletto autonomamente. Primo caso in Italia. Quindi è una cosa anche questa molto importante. L'anno scorso, Presidente, abbiamo detto, sono state molte le attività perché era un anno per voi anche un po' particolare. Avete avuto iniziative qui ad Arezzo e poi siete stati addirittura sulla costa a Cala Martina nel Grossetano. Sì, Cala Martina per la rivocazione della trafila che portò Garibaldi alla salvezza dopo il 1849, dopo la morte di Anita. Ma vorrei ricordare che quest'anno, sempre nelle saloni della provincia, organizziamo dall'11 al 21 luglio una mostra fotografica sulla liberazione di Arezzo. Una mostra fotografica organizzata proprio dalla nostra associazione. Quindi l'argomento della liberazione è sempre presente, non potrebbe essere altrimenti, visto che, come detto, quest'anno è l'ottantesimo anniversario. Ecco il motivo per cui abbiamo voluto organizzare anche questo spazio a spunti di vista, perché crediamo sia una ricorrenza significativa che non può passare inosservata. Sicuramente no. Sicuramente no, perché noi dobbiamo considerare che Arezzo è un po' sottovalutato, il discorso della resistenza, perché è stata un po' isolata e ci sono stati anche dei crimini, indubbiamente, il contesto della guerra purtroppo era quello. Però ricordiamoci che Arezzo ha avuto 1093 morti per eccidi nazifascisti, il più alto numero in Toscana. Se noi si va a fare una percentuale, è brutto dire questo, però sono il 53%, oltre il 53% dei morti che ha avuto la Toscana sono aretini. E in questo debbo aggiungere anche il contributo della comunità ebraica. Ricordiamo Eugenio Calò, ricordiamo Valobra, che è morto nella battaglia di Cetica, e tanti altri come Gottschak, che organizzò un ospedale da campo e così via. Noi dobbiamo ricordare anche, come associazione, abbiamo proposto al comune di intestare una strada a Luigi Valentini, al comandante Valentini, che è quello che è nella fotografia nelle scale del Duomo quando arrivarono gli americani, ma la città era già abbastanza liberata, e che furono suonate le campane per questo avvenimento. Quindi Luigi Valentini merita, essendo stato un comandante dei partigiani. Ecco Presidente, queste sono immagini che si riferiscono alla celebrazione che si svolge proprio l'anno scorso nei pressi in via divisione Garibaldi. In via divisione Garibaldi, perché noi dobbiamo considerare anche questo, l'impatto che i militari hanno avuto nella resistenza. L'impatto che hanno avuto i militari nella resistenza è stato molto importante, e la divisione militare Garibaldi è stata quella che è una delle prime che ha aderito e ha fatto la resistenza, perché dopo l'8 settembre del 1943 l'esercito italiano rimase senza ordini e molti si gettarono nella mischia contro il pericolo nazifascista. Poi ricordiamo anche l'impegno della divisione partigiana militare Garibaldi, soprattutto in Montenegro mi sembra. In Montenegro, dove praticamente ricevettero l'ordine dai tedeschi di arrendersi e di consegnare tutte le armi, come è successo a Cacifalonia. Ecco, questa cerimonia in fondo dà il giusto riconoscimento anche alla memoria dei partigiani Garibaldini, abbiamo detto, e quindi in questo caso transnazionale. Transnazionale. L'Italia ha avuto anche questo merito, di avere una resistenza transnazionale, non soltanto in Italia, ma anche fuori dall'Italia. E i militari hanno avuto un ruolo fondamentale. Per esempio il canto Bella Ciao, che molti pensano che sia un canto comunista, non è così. Bella Ciao è un canto di cittadini che una mattina si svegliano e trovano il loro paese invaso da stranieri con tanta violenza e tanta prepotenza. E i primi a cantare questo canto è stata proprio la brigata militare Maiella, che non passò da Arezzo perché passò dalla parte di Pesaro verso la linea gotica. Presidente, più in generale, ecco l'attività, l'attività futura della sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini. Come si svolgerà? E soprattutto, la domanda curiosa, è sapere se i giovani sono interessati alla vostra attività e magari intendono avvicinarsi alle vostre iniziative. Beh, guarda, io devo dire questo, che il contatto fra anziani e giovani effettivamente in Italia esiste. E mi ha fatto fare questa riflessione. Il coronavirus. Sono morti molti anziani proprio perché per il contatto con i giovani che le contaminavano. E questo è un segno che il contatto tra anziani, che sono la memoria storica, e i giovani, che sono il futuro, effettivamente esiste. E anche nella nostra associazione... Pensiamo per esempio alle iniziative di solidarietà nel mondo del volontariato, per esempio. Certo. L'assistenza che viene garantita anche alle persone anziane. Ma infatti, la nostra associazione, per esempio, è stata fondata nel 1871 da Giuseppe Garibaldi stesso come società di mutuo soccorso, con le due mani che si stringono. Si riferisce in questo caso alla Croce Bianca? Mi riferisco alla Croce Bianca perché è di origine garibaldina, ma anche all'associazione nostra, associazione veterani, vera e propria, vera e propria. Nacque come società di mutuo soccorso. Dopo entra in un altro spirito, i Reduci delle Patrie Battaglie, che tra l'altro è un'associazione fondata da un aretino, che era il dottor Zannetti di Monte San Savino, che era stato un combattente per l'indipendenza della nostra nazione. E quindi si è questa fusione e dal 1894 al 96 in poi diventa l'associazione che oggi non conosciamo, rifondata poi su basi nuove nel 1944. Nel 1944. Abbiamo detto che l'obiettivo è quello in fondo anche di mettere in evidenza quelli che sono un po' i valori legati alla figura di Garibaldi, che molti hanno studiato, ma hanno studiato probabilmente da prospettive sempre di volta in volta e piuttosto diverse. Cioè non si è mai arrivati in fondo nello studio di Garibaldi a dare una rappresentazione completa, unitaria, della figura di questo personaggio? Una figura del personaggio che si potrebbe riassumere in due parole, giustizia e libertà. Perché lui ha combattuto per la libertà di tutti i popoli e per la giustizia, intendendo per giustizia i diritti. Lui quando dice il più grande regalo, la più grande ricompensa che io possa avere, poter dire a uno che non è libero, da oggi tu sei una persona libera. E molti non sanno che era un uomo di pace. E' stato il presidente, ha preseduto il primo congresso mondiale della pace a Ginevra nel 1867, era lui il presidente di questo congresso. E fu chiamato a dirigerlo. E il primo e unico premio Nobel per la pace che ha avuto l'Italia è un certo Moneta, di cui è conosciuto una sua discendente, Ernesto Moneta, di Milano, che era un Garibaldino. Con questa riflessione e considerazione di Ernesto Ferrini, presidente della sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Volontari e Reduci Garibaldini, finisce questo spazio di spunti di vista. Ringraziamo il presidente e ci ripromettiamo comunque evidentemente di seguire le iniziative legate all'ottantesimo anniversario della liberazione di Arezzo. La linea può tornare adesso alla regia.